Desta e sinistra, vedete che non solleva e non proietta, allora cercate di fare in modo di arrivare sempre, vedete la posizione come non fa solo 180 gradi, ne fa un pochino di più Ok? Vedete come è dritto sul corpo, non piega la testa così, eh? Proviamo ancora a 10, 3, 4 Vedete che amplia sempre leggermente più la rotazione, ferma dritto, è un po' di più Ok? Pronti? Adesso fate come ha fatto lui, cioè 1, 2, 3 1, 2, 3 Vedete? Sì, adesso lui lo sta facendo in un unico passo qua 1, 2 Va bene? Forza, proviamo! Oh, boom Ok? Oh, boom Proviamo Avete visto come fa? Sì, sì Oh, boom, boom, là Anche questo non è parico, ragazzi Allora, non pensate a sollevare, pensate solo a Oh, un giro 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 Posizione Ok? Sì Avvicinarlo e entrare Proviamo, vediamo cosa è riuscito qua Guardate bene Guardate bene come lui si avvicina alla materassina Vedete come va avanti con la sua gamba Il ginocchio resta bene qua vicino a lui E adesso si siede Il peso sul compagno Controlla bene con la mano E poi va in osaicopio Ok? Per cui cercate di farlo più lentamente Per seguire questa procedura Va bene?